La Commissione sezionale per l'escursionismo del CAI organizza un'attività volta a far conoscere correttamente la montagna, sensibilizzando ed educando gli escursionisti ad una giusta fruizione dell'ambiente, perché è proprio vero che fa più danni un solo maleducato che mille escursionisti ben educati. La filosofia che anima tutti noi del CAI è semplice e gratificante, camminare per conoscere, conoscere per apprezzare, apprezzare per tutelare. Si propone quindi un escursionismo attento ai valori dell'uomo nel rispetto delle tradizioni e dell'ambiente, servendosi dei sentieri montani senza lasciare tracce del proprio passaggio. La realizzazione di escursioni e corsi di escursionismo è divenuta quindi strumento fondamentale per perseguire queste finalità, dando a chi desidera incontrare la montagna e nuovi amici le nozioni fondamentali per vivere in sicurezza e nel giusto rispetto l'ambiente montano. Nel corso del 1996 la Commissione ha organizzato all'uopo diverse uscite nel Parco Gran Sasso Laga, contribuendo a far conoscere questo suggestivo ambiente. È un corso di escursionismo con dieci lezioni teoriche e nove escursioni di verifica e approfondimento che hanno aiutato i partecipanti a capire l'importanza di andare in montagna con il giusto corredo di nozioni utili per la sicurezza loro e dell'ambiente. Anche nel 1997 l'intento del corso, che giungerà alla terza edizione, sarà quello di avvicinare più persone alla cultura della montagna, non solo per una salutare attività fisica. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ma con l'augurio che il programma escursionistico 97 soddisfi tutti e ci aiuti ad ingrandire il numero degli amici con cui dividere domenicalmente gioie e fatiche, ripercorriamo con le immagini le escursioni del 1996, dedicando questo collage di ricordi a chi le ha organizzate, chi le ha accompagnate e soprattutto chi le ha vissute, cioè noi. Grazie a tutti. Grazie a tutti